Produciamo biciclette da corsa da 111 anni e Viglia Tristina è sinonimo di bici da competizione. Dal dopoguerra in poi abbiamo scritto pagine importanti della storia del ciclismo. Storia con la S maiuscola. Come azienda leader ci siamo sempre preoccupati di innovare e di portare nuovi prodotti nel mercato. Oggi ancora una volta anticipiamo le tendenze e con 101 Hybrid abbiamo il piacere di presentare la prima bici da corsa intelligente. Cosa significa per noi bici da corsa intelligente? 101 Hybrid è stata creata con una missione ben precisa in testa, dare a quante più persone possibile l'opportunità di divertirsi in una vera bici da competizione. Ci sono migliaia di motivi diversi che possono impedire di provare o riprovare tali emozioni. Abbiamo pensato a tutte quelle persone che si avvicinano per la prima volta al mondo della bicicletta da corsa. Sappiamo quanta fatica si fa ad allenarsi con costanza e anche alle migliaia di appassionati che già usano una bicicletta da corsa ma che magari fanno fatica a tenere le ruote dei propri amici o di chi magari non riesce più a scalare la propria salita preferita. L'intelligenza di 101 Hybrid sta proprio in questo, di riuscire a capire i nostri limiti, le nostre difficoltà e di intervenire al momento opportuno. Molti sono i sistemi disponibili sul mercato ma nessuno di questi era idoneo a costruire la bicicletta che avevamo in mente. Oggi abbiamo trovato il prodotto adatto per creare una vera bicicletta da corsa, quindi leggera, performante, sportiva. Ma come è fatta questa bicicletta intelligente? Il 101 Hybrid è composta da un telaio, una forcella in carbonio monoscocca che viene costruita con gli stessi materiali e le stesse tecnologie che abitualmente usiamo per i prodotti da competizione. L'allestimento viene effettuato con componenti da corsa tradizionali, abbiamo ad esempio dei freni a disco ad azionamento idraulico come abbiamo dei cerchi in alluminio ad alto profilo. In realtà l'unico componente diverso dallo standard è il mozzo posteriore. Questo mozzo contiene il motore che darà l'assistenza alla nostra bicicletta. L'energia del motore deriva da una batteria che è perfettamente integrata all'interno del telaio. Il tutto viene comandato da un pulsante, anche questo perfettamente integrato nel tubo orizzontale, che permette di scegliere le varie modalità d'uso. La batteria integra al suo interno i microprocessori che regolano l'intelligenza di 101 Hybrid. Le geometrie di 101 Hybrid derivano dalla 110 NDR, quindi parliamo di geometrie Endurance che richiedono una postura meno esigente. Ma come viene controllato tutto il sistema? In realtà ci sono diverse opzioni. Si può usare semplicemente il pulsante integrato col quale possiamo comandare l'accensione e lo spegnimento o selezionare il livello di assistenza. Chi invece cerca una maggiore interazione può semplicemente scaricare l'app dedicata. E qui si apre un mondo di possibilità. Possiamo usare il cellulare per delle informazioni basiche come la velocità, la distanza, il controllo della carica della batteria. Con l'app possiamo gestire la navigazione oppure possiamo gestire le nostre uscite registrandole ed archiviandole. L'intelligenza di 101 Hybrid non si ferma solo a questo. Per esempio possiamo impostare nel nostro cellulare la massima frequenza cardiaca che vogliamo raggiungere. Una volta raggiunto questo livello il motore si attiverà autonomamente, ma molte altre sono le opzioni da scoprire. Uno degli aspetti più importanti è stato il raggiungimento di un peso record. Abbiamo una bicicletta da corsa assistita che pesa meno di 12 kg. Con 101 Hybrid abbiamo raggiunto il nostro scopo, creare una vera bicicletta da corsa per tutti.